bene bene c'è consapevolezza si sta lavorando bene e quindi sono contento e mi dispiace solamente per qualche acciacco qualcuno influenzato però così funziona così bisogna andare avanti ma stiamo bene ormai come dire quello che abbiamo fatto col bisceglia fa parte del passato finalmente ci siamo sbloccati anche fuori ricordiamoci che era uno scontro diretto quindi vale doppio però ormai fa parte del passato pensiamo a domenica che andiamo a incontrare una squadra penso in questo momento la squadra più in forma propone un bel calcio e dobbiamo stare molto attenti perché hanno veramente una base molto importante faccio i complimenti al mister scienza è una squadra che ama agire negli spazi quindi ovvio che per tante cose quando giocano in casa le altre squadre si chiudono un attimino quindi negli spazi stretti fanno più fatica però hanno messo sotto grandi squadre ci vorrà tantissima attenzione una squadra che mi piace quindi va affrontata con le giuste motivazioni che quelle non possono mancare dopo indipendentemente dell'avversario queste monopoli oppure casertano quant'altro ci siamo noi quindi io mi preoccupo di più da mia squadra che degli avversari ho Grazie a tutti.